Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ok? Quindi vi chiedo durante la preghiera di protezione di mettere le mani sul cuore, di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbe essere un solo gruppo o anche tutti e tre i gruppi in base a quello che percepite e sentite nel vostro cuore. Bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea, Onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore seguono la lettura. Invoco te, arcangelo Michele, invoco il maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza amica elica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di tagliare tutte le corde goiche di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, ti chiedo di purificare le nostre energie, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di sintonizzare la nostra energia nella frequenza dell'amore più puro e di incondizionato e di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, Onnipotente Padre e Madre. Chiedo massima protezione fisica e psichica per me e tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie arcangelo Michele, grazie al maestro Gesù, grazie coscienza amica elica, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia. Ora, per sempre e per l'eternità, ok, gruppo A, è venuto il momento di lasciare andare questa situazione negativa. Qua si sono girate troppe carte, vediamo il gruppo B, eccola qui, ci pensa Dio, ok. Gruppo C, vediamo un po', ecco qua la carta, senso dell'umorismo. Gruppo A, qualcuno di nuovo sta arrivando, quindi è una relazione alle porte, interessante. Gruppo B, abbraccia il tuo scopo divino, ok. Gruppo C, diciamo, metti come priorità il tuo benessere, ok. Ok, prenderti cura di te stesso, di te stessa, poi lo vediamo nello specifico, ora andiamo a vedere queste carte, ok. Gruppo A, fai dell'esercizio fisico. Gruppo B, è qua che vedere, vedi, sempre con pazienza, ok. Col prendersi cura di se stessi. Aspettate che sono cadute troppe carte. Gruppo C, queste sono un po' piccoline. Bene, eccola qua, è caduta. Fai delle ricerche, ok. Ok, adesso andiamo a vedere la nostra lettura angelica. Prendiamo anche il libro per il messaggio finale. Vediamo un po'. Allora, gruppo A, è venuto il momento di lasciare andare questa situazione negativa. C'è una relazione che devi chiudere, lasciare andare il passato. Il vecchio non serve più il tuo massimo bene. Lascia andare tutto ciò che ti sta impedendo di aprirti a nuova, a nuove opportunità. Tu questo lo stai già facendo, però è una carta che va a confermare che quella relazione non era per te, che ormai è obsoleta, che quel lavoro non serve più il tuo massimo bene, che quelle persone non sono per il tuo massimo bene. Quindi lascia andare, chiudi col passato. È importante chiudere il vecchio per aprirsi al nuovo. Tanto è vero che l'energia del presente è un'energia che ti sta portando qualcosa di nuovo, di importante, una nuova relazione all'orizzonte. Apri la tua mente e il tuo cuore affinché la tua felicità possa entrare nella tua vita. Vedi? Quindi assolutamente lune nuove, grandi opportunità, nuove relazioni. È un'energia molto potente. Per quanto riguarda il prendersi cura di te stesso, di te stessa, l'Arcangelo Michele, gli angeli e le fatte ti stanno invitando a fare dell'esercizio fisico. Vai in palestra, vai a correre, vai a fare delle passeggiate. È venuto proprio il momento di prenderti cura del tuo aspetto, del tuo corpo, fai un'alimentazione sana, muoviti, balla, fai esercizi in casa. Insomma, fai qualcosa per mettere in movimento il tuo metabolismo. Perché se sei troppo fermo, sei troppo ferma, sei troppo bloccato e bloccata, hai bisogno di riattivare un pochino veramente il metabolismo, il tuo organismo. Perché fa bene non solo al corpo, ma fa bene anche alla tua anima e al tuo spirito. Ok? Per quanto riguarda il gruppo B, questa carta ci pensa a Dio, sta a significare che è venuto il momento di affidarsi completamente agli angeli, a Dio e all'Arcangelo Michele. Per questa situazione è importante fare un atto di affidamento, non mettere il controllo, non forzare gli eventi, non hai bisogno di fare questo. Concentrati sulla missione, concentrati sul servizio divino. Va bene? Abbraccia il tuo scopo divino. Tu sai per cosa sei nato, per cosa sei nata. È venuto il momento veramente di appassionarti a questo. Agisci nella direzione dei tuoi sogni, va bene? L'Arcangelo Michele ti sta guidando nel tuo scopo divino. Fai ciò che riempie il tuo cuore pieno di gioia. Lo devi fare, devi agire in questa direzione. Grandi cose si apriranno davanti a te. Diciamo che le tempistiche sono divine. Abbi un po' di pazienza, non forzare gli eventi. Cioè tutto arriverà molto velocemente, ma le tempistiche divine sono diverse da quelle tue. Quindi apriti al meglio, affidati a Dio, all'universo, all'amore, agli angeli. Agisci nella direzione. Vedrai che poi arriverà talmente in maniera potente, dice l'Arcangelo Michele, che devi essere ben radicato, ben radicata per ricevere tutta questa abbondanza. Perché grande abbondanza sta arrivando nella tua bellissima vita. Non mi sono accorta che è caduta una carta nella terza lettura. Quindi farà parte del gruppo C. Quindi due carte, quattro carte anziché tre. Ok, gruppo C, senso dell'umorismo. Sei troppo serio, sei troppo seria. Sciogliti un po', divertiti, ridi. Perché veramente bisogna anche sdrammatizzare. Sei troppo serioso, lascia andare tutto questo controllo, questo giudizio. Quello è tutto ego, esci dall'ego, riconnettiti nel cuore. Prenditi cura di te stesso e di te stessa. Tu fai veramente tanto per le altre persone. È venuto il tempo di dedicare amore per te stesso e per te stessa, va bene? Quindi dare priorità a te. Non so, vai a fare un massaggio. Fai un bagno caldo col sale. Fai delle coccole. Medita un po'. Comprati un vestito nuovo. Fai qualcosa per l'amore per te stessa. Perché hai proprio bisogno di dare priorità a te. Perché pensi troppo agli altri e poco a te stesso e a te stessa, ok? Diciamo che hai dei progetti. Gli angeli ti stanno dicendo che sei nella direzione giusta, però ti devi un pochino documentare. Ad esempio, vorresti farti conoscere nella tua attività. Ebbene, come fare? Documentati. Oppure vuoi iniziare una nuova attività in un settore specifico, anche in quello della spiritualità. Ecco, documentati come fare, come agire. Veramente oggi su Google è possibile trovare di tutto. Devi studiare. Devi fare delle ricerche. Devi aumentare le tue competenze, le tue conoscenze, va bene? E poi sii chiaro e chiara che cosa vuoi veramente dalla vita, cosa vuoi veramente raggiungere, quali sono realmente i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Devi essere chiaro affinché, se no, se sei confuso o confusa, l'universo ti risponde in maniera confusa. Quando le idee chiare funziona. La legge dell'attrazione è potente. Un consiglio che posso dare è anche quello di scrivere delle affermazioni positive al presente, come che avete già manifestato i vostri sogni, i vostri obiettivi, essere chiari e specifici, scrivere tutti questi sogni e obiettivi, già, ripeto, con delle frasi affermative al presente, recitarle tutti i giorni, oppure recitarle, registrarle e ascoltarle tutti i giorni. Perché vanno nell'inconscio, funziona, è potente, dobbiamo riprogrammare il nostro inconscio e far sì che l'inconscio risponda alla nostra volontà e non viceversa, va bene? Perché l'inconscio non è né buono né cattivo, semplicemente va in automatico. Se noi gli diamo dei programmi negativi, manifestiamo eventi negativi. Se noi diamo nuove informazioni positive e potenzianti, ecco che arriva a questo, ok? Arriva a quello che noi vogliamo veramente. Chiedo a te, Michele, di darci i messaggi più giusti per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Grazie, così è. Dosa le tue forze, ok? Non strafare, non considerare sempre illimitate le tue riserve energetiche, ti stai sforzando troppo. Meglio considerare con attenzione gli investimenti da effettuare prima di lanciarsi nell'impresa. Ecco, per voi che magari state decidendo di intraprendere un'attività e così via, fate bene i conti prima di agire. Ragionate bene e ascoltate il cuore. Non agite per paura, ma agite con chiarezza. Cioè, quando avete le idee chiare, quando sapete esattamente quello che volete, ok? Bene, per questa settimana la lettura è finita. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico. Faccio alcune sessioni private, anche alcune letture angeliche. Però per lo più insegno alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce o con gli angeli. Ok, la prossima classe per quanto riguarda la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce inizierà il 9 di settembre. Va bene? Una classe da 20 partecipanti. Ci sono ancora posti disponibili. Quindi, se sei interessato o se sei interessata, puoi contattarmi. È un percorso online, ovunque ti trovi nel mondo. Se parli italiano, puoi fare questo corso meraviglioso, dove imparerai tutto sul riequilibrio energetico, tutto su Logo Sealing. Riceverai quattro sessioni di riequilibrio energetico direttamente da me. Insomma, è un bel percorso. Contattami per maggiori informazioni. Bene, io vi saluto. Vi auguro una settimana strepitosa. Vi abbraccio. A presto. Ciao. Ciao.